Ciao a tutti ragazzi Io sono Dynamic e scusate, dopo tanto, 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 tanto tempo ritorniamo a fare i video e cos... perché così tanto tempo? Così tanto tempo perché sono successo un po' di cose con il computer e c'altro comunque mi sono comprato un nuovo pc e iniziamo subito con questo unboxing del mio monitor bene, questo unboxing di questo monitor si chiama AUK è una delle migliori marche con poco prezzo della modello E2250S WDN è un monitor LED di 54.7 cm 21,5 pollici sotto al prodotto della scatola, della confezione troviamo diverse informazioni su questo prodotto ma noi iniziamo subito con l'unboxing ok, se l'avete appena comprato e l'estate aprendo sicuramente qua ci sarà lo scotch io l'ho tagliato con il cortello e apriamo... apriamo... subito la... che cavolo dico subito ok, apriamo così ecco, se iniziamo all'interno ci sono vediamo, mamma mia mettiamolo giù perché se no qua crolla tutto ok c'è un cosino di plastica che ci servirà dopo quindi mettiamo da parte ok, mettiamo su ho visto che c'è un altro coso ah, cavi cavi, HDMI, 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 sì ok, HD penso cavo cavo HDMI però diverso, sì, diverso non sa cosa serve ok passiamo all'interno del box mamma mia quanto è profano ok, oh cavolo ci siamo ragazzi ci siamo ragazzi è questo questa è Sparta no, sto scazzando mamma mia, aspetta che cambio mano con questo video mamma mia oh, questo questo la cosa che ci interessa di più è questo ok ragazzi siamo qua con il monitor che è molto grande molto grande non me l'aspettavo e è anche abbastanza pesante visto che l'ho tirato su con una mano togliamo questa plastica che c'è intorno mamma mia mamma mia anzi, no, scusatevi perché ho messo la mano davanti siccome, scusate, è il primo unboxing quindi farà ops che cavolo è successo oh oddio scusate, queste cavolate non le devo proprio fare ok, ora facciamo serie oh, 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 ce l'abbiamo fatta allora e viva me oh, cavolo questo sì che è un bel coso cavolo qua c'è anche una bella firma se se la lunghiamo penso ci siamo su altri ok è molto bello da vedere è tutto lucido splendente non me l'aspettavo perché nella figura che fa vedere è molto brutta da vedere opaco così ma in verità invece è molto 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 grande vabbè, non esageriamo è molto grande questo direi che può bastare ok, qua su all'inizio con i bottoni che vediamo c'è il tasto on che sarebbe questo qui lo sto pigiando poi c'è il tasto menu che sarebbe questo qui che lo sto pigiando c'è il tasto auto che serve questo qui e non so assolutamente cosa serve questo non ha un tasto quindi niente un tasto questo è il tasto della luminosità più e questo è il tasto della luminosità meno ok se ora giriamo oddio giriamo il monitor vediamo il tasto dell'anima cioè che cavolo dico l'alimentatore e i due cavi che questo non so cosa serve questo è l'HDMI normale no H GVCA ma che cavolo dico scusate e mi sono rimpallito praticamente questo cavo e quest'altro cavo lo dovremmo mettere una dei due lo vedremo mettere qua quindi dopo vedremo quale anzi no non lo vedremo perché siccome il primo il primo PC il desktop facciamo il primo unboxing quindi non lo vedremo perché sono anch'io principiante oddio vabbè ora giriamo qua la scatola se muo andiamo a girare la scatola ok ok aspettate ok questo lo sfogliamo vediamo all'interno cosa c'è all'interno c'è altre di queste cose bianche oddio 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 ma che basta fare questi rumori cavolo un altro cavo ecco il cavo dell'alimentatore mettiamolo sopra mamma mia mamma mia mamma mia ragazzi questo è più difficile difficile di prendere il monitor cavolo ok 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 è più difficile si lo tolto lo tolto lo tolto lo tolto lo tolto lo tolto oddio qua cade tutto andiamo un po' indietro Oh avete visto il mio pc Vabbè non fa niente Mamma mia Mamma mia Oh mio dio Sì ce l'abbiamo fatta Questa è la coppa Questa è la coppa Questa è sparta No questa è pizzarta Questa è pizzarta Mettiamolo qua Vediamo se all'interno c'è qualcos'altro Oh mio dio no Andavo a spingere con le gambe Sì 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 c'è un bel disco Qua c'è un bel disco Sorpresa sorpresa Ok Tiriamolo fuori Vieni qua solitario Eccolo qui Questa è il monitor Che non so a cosa serve Boh Monitor Disco del monitor Non so assolutamente a cosa serve Quindi Niente Iniziamo Niente Mettiamo Mettiamo per bene Il cosino Il monitor Per vedere Tutto per bene Quindi Mamma mia È caduto È caduto il pezzo È caduto la coppa di pizzarta Ok Questo è il monitor E niente Il video Finisce qua Perché non c'ho niente da dirvi Spero che vi siete divertiti Non c'è Ah sì giusto Questo prodotto Il prodotto di questa AUK Mark AUK Cioè la versione proprio prima prima E costa 86 pound Quindi 86 pound In Gran Bretagna In Italia Pansi che costerà Sempre lo stesso numero E niente Se lo vete comprare Compratelo Il video sta diventando Già troppo lungo Verrà schifoso Scusate Non c'avevo abbastanza attrezzi Anche con questa videocamera Che non è in HD Per dirvi Quindi spero che Mettete mi piace Visto che è il mio primo unboxing E niente Ciao a tutti ragazzi Un bel Un bel Un bel Un bel abbraccio Da Dynamic Spero che Anche Prai Anche Ma che cazzo dico Prai Cioè Anche Rector Torni presto Ciao a tutti ragazzi